a tutti dal Tg regionale per sordi. Una passeggiata di protesta nel centro di Firenze per chiedere regole certe sulla riapertura dei ristoratori e sostegno. È l'iniziativa organizzata oggi da alcune centinaia di ristoratori provenienti da tutta la regione che aderiscono al gruppo Ristoratori Toscani che conta 9.000 adesioni su Facebook. A braccia aperte per mantenere la distanza di sicurezza interpersonale e intonando l'inno di Mameli dunque ristoratori, cuochi, pizzaioli ma anche camerieri e personale dei locali hanno sfilato da Piazza del Duomo a Piazza della Signoria dove sono stati appesi alcuni striscioni con scritto Comune, Regione, Governo, basta chiacchiere adesso i fatti ma anche dipendenti uguale nostra famiglia. I manifestanti non hanno voluto incontrare i rappresentanti delle istituzioni e politici. Estendendo una bandiera tricolore di 50 metri quadri, i commercianti di area pubblica hanno inscenato una protesta oggi in Piazza dell'Isolotto a Firenze per chiedere certezze da parte del Governo per il Commercio Ambulante. Alcune centinaia i manifestanti appartenenti all'associazione di categoria Assidea che hanno intonato anche loro l'inno di Mameli e esposto cartelli di protesta insieme a tante bandiere italiane. A oggi il Governo ci ha dimenticati, dicono nei DPCM la categoria non è mai stata menzionata se non per disporne la chiusura a marzo. Sono 60 giorni che le nostre piccole imprese, che sono tutte a conduzione familiare, sono chiuse e senza reddito. Lamentano gli ambulanti, chiedono una data certa di ripartenza e alla regione toscana dei criteri uguali in tutti i comuni. Trovato alla guida della sua auto con 11 grammi di marijuana, ieri mattina a Firenze durante un controllo in via Mafalda di Savoia ha rifiutato di sottoporsi al test per accertare se avesse assunto stupefacenti. Per questo un 47enne è stato denunciato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi al drug test. Nei suoi confronti sono scattati anche il ritiro della patente e il sequestro della vettura. Emanuele Sceri, il giovane allievo paracadutista della Folgore, originario di Siracusa, morto il 13 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa, fu ucciso da tre caporali che, nell'intenzione di punirlo perché stava telefonando, lo percossero, lo costrinsero a salire su una torre da cui lo fecero cadere e lo lasciarono agonizzante a terra. Ne è convinta la Procura Militare di Roma, diretta da Marco De Paulis, che ha emesso un avviso di conclusione indagini per il reato di violenza ad inferiore mediante omicidio pluriaggravato in concorso. Nessun caso di positività al Covid-19 tra mamme e neonati all'ospedale San Donato di Arezzo. I parti sono stati seguiti nel percorso di avvicinamento e statisticamente sono aumentati di numero. Nel primo trimestre 2020 si sono avute 351 nascite contro le 303 dello stesso periodo del 2019. Sono circa 1.300 le prenotazioni effettuate per i prelievi del sangue nella zona di Firenze dal 4 al 9 maggio. Nella prima settimana in cui è partita nei presidi Morgani, Piagge, Santa Rosa e D'Annunzio la nuova procedura che non prevede più l'accesso diretto. La ASL ricorda che oltre al sistema CUP le prenotazioni possono essere effettuate anche tramite le farmacie che svolgono il servizio. Il prelievo presso le farmacie comunali di Firenze con CUP può essere fissato telefonando comodamente da casa senza doversi recare di persona. Dal 4 al 9 maggio le prenotazioni effettuate tramite call center aziendale sono state 978 tramite farmacie 249 presso gli sportelli territoriali 71 e il resto tramite altri canali di prenotazione. Ogni giorno nei presidi territoriali di Firenze sono prenotabili circa 300 prelievi. Un uomo residente a Vinci, provincia di Firenze, pensionato, è stato denunciato dai carabinieri forestali per maltrattamenti nei confronti di un cane di razza Golden Retriever di sua proprietà che adesso gli è stato tolto per essere affidato ad una struttura protetta. I militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che hanno notato l'uomo prendere ripetutamente il cane a calci nel ventre tirandolo successivamente per la coda. Il proprietario, ascoltato dai forestali, ha provato a giustificarsi dicendo di aver agito per compiere delle azioni correttive di fronte all'indisciplina del piccolo animale domestico. I carabinieri della stazione di Iolo a Prato hanno arrestato padre e figlio dopo che nel corso di una perquisizione domiciliare delegata dall'autorità giudiziaria hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola a brasa. L'arma era dentro una scatola da scarpe nascosta in un furgone di proprietà del padre ma in uso anche al figlio. Detenzione di arma clandestina e il reato contestato ai due. Uno dei due arrestati è stato tra i componenti della cosiddetta banda del soccorso, gruppo al quale furono adebitati scippi, rapine e pestaggi avvenuti a Prato tra il 2011 e il 2012. Sono un medico e un ricercatore, non mi interessano questi litigi, queste chiacchiere, sto ai fatti e i fatti sono che la sperimentazione sul plasma non è di Pisa ma nazionale e io ne sono il coordinatore insieme a un immunotrasfusionista di Pavia, il dottor Cesare Perotti e quindi c'è piena sintonia con i colleghi lombardi. Lo afferma l'infettivologo pisano Francesco Menichetti. in risposta a Giuseppe De Donno, direttore di pneumologia e terapia intensiva respiratoria dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, che aveva criticato la scelta dello studio Tsunami di Pisa come capofila della sperimentazione italiana sulla plasmoterapia, sostenendo che aveva prevalso la politica. I pazienti sordi affetti da coronavirus che sono ricoverati in 75 ospedali italiani possono comunicare con medici e infermieri e eventualmente anche con i familiari grazie a un interprete a distanza che tradurrà le comunicazioni nella lingua dei segni attraverso mille tablet e cellulari donati da TIM. È l'iniziativa promossa dall'ente nazionale Sordi in collaborazione con la società di telecomunicazioni. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana, poco parzialmente nuvoloso, nubi più compatte sulle zone nord, soprattutto sul nord-ovest, dove non sono escluse deboli piogge, i venti di scirocco deboli nell'interno, moderati o forti sulla costa centro-sud, sull'arcipelago e i rilievi meridionali. I mari mossi e le temperature minime in calo, massime in aumento, più sensibile nelle zone interne. I valori sono di nuovo superiori alle medie del periodo. Per ora è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci!